Nella tredicesima gara del campionato di serie C-FIPA valida per il girone D, la Promoball Sanitar si esce sconfitta dal campo di Lecco contro la Ram Serramenti per il risultato di 3-1 per le padrone di casa. La squadra di Flero è riuscita a mettere in difficoltà le ragazze di Lecco solo nel secondo set, arrivato allo spareggio e chiuso dalla Promoball con il risultato di 24-26. Ma nei tempi rimanenti la Ram Serramenti l'ha fatta da padrone, raggiungendo risultati netti che denotano la compattezza in campo delle lecchesi. 25-15 nel primo set, 25-17 nel terzo e 25-18 nell'ultimo set. Da notare nella gara di questa settimana una grande performance di Marinoni che da sola è riuscita ad accumulare 22 punti per la sua squadra. Turina è la seconda più prolifica di questa tredicesima giornata di campionato con uno scor di 11 punti messi a segno. La Promoball Sanitar dopo la tredicesima di campionato non riesce a rialzarsi dalla propria posizione in classifica. Le Fleresi sono penultime a 9 punti appena sopra la Propersi Volley di Lodi, che è riuscita ad accumulare 4 punti dall'inizio della stagione. Le lecchesi della Ram Serramenti invece permangono a 17 punti in settima posizione, pressate dalla Pallavolo Celadina che ha la stessa somma di punti. Le ragazze di Flero giocheranno nella prossima giornata di campionato contro la seconda in classifica della Enercom in trasferta a Crema, sabato 16 febbraio alle ore 17.